De Montes Giovanni, sono di Capoterra, Sardegna e ho 68 anni, quasi 69. Allora ho scoperto l'SOS tramite internet, diciamo che subito non è che mi sia fidato perché ho avuto anche delle altre esperienze in riguardo dei dentisti e non è che mi fidavo tanto, specie via internet, non conoscendo e allora ho chiesto a delle persone che ho saputo che hanno curato i denti qua e mi hanno dato una buona impressione nel dire che mi hanno detto di venire tranquillo che qui risolvevo tutti i problemi e io più che altro mi sono fidato oltre alla loro testimonianza al fatto che Palmas è un cognome sardo e io suo cognome sardo ho avuto una grande fiducia, di fatti poi mi sono informato bene, ho saputo chi era, di dove era e poi ho telefonato, ho mandato un'email dove mi è stato chiesto di mandare la panoramica, ho mandato la panoramica, mi hanno fatto un preventivo e quindi sono venuto per la prima volta nel mese di giugno del 2017 da cui io avevo in bocca praticamente nell'arcata superiore avevo un solo dente, un canino che ballava, che traballava, che praticamente era più tolto che messo, che fisso e ho deciso di fare sei impianti e di mettere i denti fissi nell'arcata superiore. Al mese di dicembre mi hanno messo i provvisori, ho fatto gli impianti, non ho sentito nessun dolore e questa è una cosa importantissima, ho fatto gli impianti, mi hanno messo i denti provvisori e dopo sei mesi sono dovuto tornare perché le gengive si devono restringere e tutte le cose che mi hanno spiegato, da cui ho trovato un ottimo professionista che mi ha curato la bocca, diciamo che sono tornato al mese di dicembre, mi sono trovato bene per tutto, tranne che per il tempo, perché il tempo per noi in Sardegna, essendo nevicato la notte che sono arrivato, all'indomani era tutto congelato e per noi non è che sia tanto bello, però per tutto l'altro è andato bene perché mi hanno fatto le prove, tutto quanto, mi hanno messo i denti definitivi, per cui ho deciso di fare anche due impianti all'arcata inferiore, di cui oggi praticamente sono dovuto tornare adesso al mese di giugno e oggi mi hanno rimesso i denti, mi hanno tolto i provvisori, mi hanno messo i definitivi e dico la sincera verità, mi trovo bene, è come se fossero i miei. Ecco, questi sono i denti fatti adesso e questa è l'arcata fatta prima, quindi per me sembra che siano i miei, non sono ancora abituato perché batto ancora i denti, però ho mangiato tranquillamente ieri sera, ho pranzato oggi tranquillo, senza problemi e lo consiglio a tutti.